Da quando vi siete innamorati non avete mai smesso di cercare un nido tutto vostro. A trovare qualcuno che vi conceda un mutuo sembra impossibile. Ecco perché noi di UbiBanca ne abbiamo uno pensato per le coppie determinate, anche se non hanno un lavoro a tempo indeterminato. Vogliamo che il vostro sogno diventi realtà, perché sappiamo che l'amore è una casa meravigliosa. Questo, per noi, significa fare banca per bene. UbiBanca. Fare banca per bene. Grazie.